ciao amici oggi siamo a santiago del teide stiamo andando a punta de teno come potete vedere dietro di me siamo nella piazza e siamo proprio qui allo svincolo noi siamo venuti in macchina ma potete venirci anche con l'autobus partendo da costa dejo fagnabè numero 460 arriva a santiago del teide un po lunghietta poi 355 per buona vista del norte e poi 369 per aggiungere quindi seguiteci andiamo a vedere la magica puntata amore ma non avrai mica paura vero non siamo in alto no no non riesco a vedere giù comunque questa è la strada per andare a masca ragazzi c'è una vista pazzesca no riesco a vedere bene amici abbiamo superato masca stiamo andando verso buona vista del norte ci siamo fermati al mirador ci prendiamo un caffettino eh beh il barrettino aperto quindi potrebbe essere una buona idea guarda che vista ah mossa eh si ragazzi tanta roba direi questo percorso per arrivare a puntateno veramente ci garba sempre più in alto ragazzi qua è veramente uno spettacolo pappavia ragazzi siamo quasi arrivati siamo qui in un barrettino ci siamo presi una cosina da bere ho imparato e vedo che ha imparato niente espresso bravo espresso lecce lecce perché giustamente siamo qui vicino alla parada della guagua ovviamente non si può andare in macchina ragazzi dalle 10 alle 19 non si può se arrivate prima delle 10 sì dopo le 19 sì ma tra le 10 e le 19 non si può andare con la macchina vostra quindi dovete prendere per forza il pullman che parte ogni ora quindi adesso aspettiamo ancora qualche minuto e andiamo a faro dei punti a detenere numero 369 Allora ragazzi siamo nel bus siamo pronti stiamo partendo 369 ricordiamolo 369 allora dicono ovviamente che l'aggiornamento dice che serve l'app per fare il pagamento il ticket e tutto quanto però in realtà accettano la visa quindi abbiamo pagato dose euro due euro andare tornare ovviamente sono due euro andare due euro tornare quindi un euro un euro ovviamente solo visa cioè non potete pagare in effetti in cash non si può quindi andiamo allora l'ho 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 bene amici siamo arrivati a punta del teno c'è un po di venticello è giusto un pochino ma guardate si è aperto tutto il cielo che spettacolo che spettacolo la guapa ci ha fermato qui e quindi andiamo a vedere tutte le terrene la felpina ci sta perché c'è un bel po di vento e quindi frescolino però è stupendo lì abbiamo fatto vedere la spiaggia per cui c'è tutto il passiero per arrivare fino alla cima che ha fatto una bella camminata e poi invece di qua c'è il passiero per andare al faro che spettacolo dai amor su su dai che ce l'abbiamo quasi fatta dai forza ragazzi di punta teno che è ancora in funzione infatti la notte su tutto lo gigante lo vedete vedete la lucina che gira ed è veramente bellissimo io sto camminando un po' sinceramente sembra che è un po' più bellissimo sì in effetti direi che insomma la zona è bella vasta comunque ricordo che oltre a venire hai visto che bella la spiaggetta il porticciolo tutto quanto veramente uno spettacolo oltre a venire col pullman si può venire in macchina o prima delle 10 o dopo le 19 e anche prendendo il taxi da buona vista del nord vi accompagna qui vi aspetta e vi porta indietro al costo circa di 20 euro molto bene ci siamo arrivati amore il faro di punta teno peccato che sia chiuso peccato che il portone sia chiuso ragazzi cioè se voglio lo apro ma non lo apro sì in effetti mi fanno un bucio così però estremamente guapissima la situazione è veramente bello da venire da venire assolutamente a fare un'esperienza unica sì esatto anche perché comunque cioè se vieni più in qua facciamo vedere il cancello sembra un cancello del medioevo molto carino medioevo aspetta che lo inquadro da sotto perché c'è la luce del sole guarda guarda che spettacolo ragazzi bene ragazzi allora io direi che questa gita al faro di punta teno è stata veramente strepitosa esatto noi vi aspettiamo sui nostri canali social che sono la pagina tenerife sul paese su facebook la pagina tenerife sul paese su instagram la pagina tenerife sul paese su tiktok e anche tenerife sul paese su youtube molto bene ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao